Alla fine si torna all'inizio. Nessuno voleva addossarsi la croce del potere. Bene. La prendo io. Uomo di pensiero, scrittore efficace, oratore persuasivo, potrebbe diventare... un condottiero. Eh? Il malcontento cresce bene. Il caos è totale benissimo. È soltanto il caos. La rivoluzione è tutt'altra cosa. La rivoluzione non la faranno i comunisti. I fascisti sono un antipartito, fanno dell'antipolitica. Bisogna marciare! Stop! Fino a qui è stato tutto teatro.